Il risultato della vittoria dell'Arezzo ci sta, abbiamo subito il primo tempo, siamo stati meno bravi rispetto a domenica nel gestire la palla, abbiamo fatto qualche errore che magari poteva mettere un po' di pressione, un po' di paura all'avversario e si è andata a vedere infatti le tre occasioni grosse hanno avuto loro nel primo tempo, sono venute spesso da palla persa nostra, palla persa da noi. E questa cosa qui sicuramente la giovanità, sicuramente l'ambiente Arezzo, sicuramente il blasone della squadra e la forza degli avversari ha anche contribuito. Infatti paradossalmente dopo essere passati svantaggio abbiamo iniziato a giocare, forse anche perché l'Arezzo si è fra virgolette accontentato e si è abbassato un gocciolina, ma noi abbiamo preso campo e abbiamo giocato. Abbiamo concesso giustamente o normalmente due ripartenze, su una è stato bravo il nostro portiere, l'altra sono stati molto bravi loro a fare il 2-0 e lì la partita è un po' finita, però è anche positivo il fatto che i miei ragazzi hanno comunque continuato, ho preso due pali subito dopo il loro gol e poi ho trovato il 2-1, purtroppo mancava poi alla fine. Quindi c'è da registrare comunque che abbiamo tenuto testa all'Arezzo, c'è da registrare che abbiamo avuto una buonissima reazione. Forse nel primo tempo comunque fino al vantaggio loro siamo stati un po' troppo timidini. Non so se è un discorso nostro o se è merito dell'Arezzo, molto probabilmente entrambe le cose, però ecco i meriti dell'Arezzo ci sono tutti. Io penso alla mia squadra e dico che magari altre tre o quattro occasioni in questo campionato dovremmo affrontare partite in trasferta con la stessa pressione da parte del fattore ambientale e pubblico dall'esterno e la solita pressione dalla forza degli avversari. Mi riferisco a quando si va a Livorno, a Alessandra, a Cremona. E magari se si vuole portare via anche il punticino a questi campi tocca essere più bravi a non impaurirci o di non giocare. Ecco perché abbiamo qualità e comunque tocca provare a giocare. Anche perché si diceva che il tutto poi aveva questo vantaggio mentale e non aveva quasi niente da perdere rispetto a Raghezzo che aveva l'obbligo sostanzialmente di vincere. Invece solo dopo il gol è arrivata questa scomedi che siamo partiti dallo Zago 1 e adesso proviamo a attaccare. Sì, sì, il vantaggio mentale c'è, però oggi si è visto che l'Arezzo voleva vincere, aveva tanta rabbia perché voleva portare a casa questi tre punti fin dall'inizio. E tutto voglio, no che non si è impegnato, è stato forse, ripeto, un po' meno brillante nella gestione della palla rispetto ad altre volte. E quindi se non fa paura una squadra forte come l'Arezzo, piano piano il gol lo prendi. Infatti è venuta un'occasione, poi la seconda, poi la terza, poi o meno male finì il primo tempo, ma comunque poi l'andamento era quello. L'aspetto mentale secondo me è importante da capire, i ragazzi ci devono lavorare, una squadra molto giovane, una squadra che questo aspetto lo devono migliorare. Perché tanti di loro faranno campionate importanti, sono sicuro. E quindi sono qui per giocare, sono qui per migliorare anche da questo punto di vista. Grazie.